Allora, io ragazzi ve lo giuro, ho provato a fare dei grossi respiri profondi prima di fare questo video. È un video che vi volevo portare in realtà già in questa prima mattina, volevo registrarlo ieri sera. Però, dato che ho fatto il primo calcetto stagionale, non facevo una partita dalla finalissima con la Lasto di YouTuber League, dopo 40 giorni tra ferie, mangiare, bere, compleanni, ero completamente distrutto, mi sono appoggiato a letto e mi sono addormentato. Stamattina poi alle 7 mi sono svegliato, avevo già recuperato energia, però ieri sera non ero in grado di intendere volere respirare e quantomeno nemmeno di registrare. Quindi ho deciso di aspettare un attimino e quindi ci siamo. Però prima di iniziare a fare questo video del primo d'agosto ho dovuto veramente fare dei respiri profondi perché la notizia è una di quelle che mi fanno salire il brividino lungo la colonna vertebrale, tutta la spina dorsale, arriva i capelli, bam, vanno su, vanno su, anche se in questo momento ciò io giù, potevano impazzire da un momento all'altro, potevano diventare a spillo, una roba del genere. Allora ragazzi vorrei parlare della notizia riportata ieri sera da Sky Sport, che ancora una volta è questo tango tra Juventus, se Lukaku, che a quanto pare potrebbe essersi arricchito di un pochettino, un pochettino di informazioni che dal mio punto di vista sono decisamente preoccupanti. Il Chelsea avrebbe aperto la possibilità di inserire Dujan Vlaovic come contropartita per arrivare a Romelu Lukaku. Che detta così fa ridere. Sentivo stamattina un video di Romeo Agresti che va a battere uno dei punti che è da un po' anche nei primissimi video andavo a sottolineare. Cioè il Chelsea che apre a Vlaovic come contropartita per Lukaku significa che non è il Chelsea che vuole Vlaovic e quindi è disposto a inserire Lukaku come contropartita. Se il Chelsea apre a Vlaovic come contropartita per Lukaku significa che c'è una volontà da parte della Juventus di arrivare al giocatore, non viceversa. Poi possiamo assolutamente dire che l'informazione che ci viene data da Gianluca di Marzio sia falsa. Nessuno ci vieta di fare questo. Ma in questa stagione io ho visto un Di Marzio e comunque un Sky abbastanza inseriti all'interno di quelli che sono i piani della Juve. Dato che sono cambiate diverse persone all'interno della società, della struttura societaria della Juventus, solitamente un certo giornale, un certo emittente televisiva che magari prima veda delle informazioni più note, cambia la persona di riferimento all'interno, ne viene messa un'altra che ha altri contatti e quindi si sposta il focus. Quindi io starei anche abbastanza attento a questa voce che non significa che l'operazione si completerà, verrà completata al 100%, però va monitorata, va monitorata perché ogni giorno che passa nella mia testa questa operazione assume dei contorni sempre più concreti, ma anche preoccupanti, perché credo che siano veramente preoccupanti. Voglio prima di tutto ragionare un attimo insieme a voi. L'Atalanta molto probabilmente riuscirà a vendere a Oilund a 85 milioni di euro in Premier League. Noi andiamo a scambiare invece Vlaovic con Lukaku. Ora, provate a fare un ragionamento, banalmente, 12 mesi fa. 12 mesi fa vi dicono Oilund, che non ha mai giocato in Serie A e ha concluso con una decina di reti in Serie A la stagione, alla fine andrà via 85 milioni, mentre Vlaovic verrà dato al Chelsea come pedina per arrivare a Romelu Lukaku più soldi, perché comunque si parla di un conguaglio ancora da trovare, con la Juventus che vorrebbe valutare in tutto 80 milioni di euro Lukaku nelle Vlaovic, perché ha una cinquantina di milioni a residuo. Quindi bisogna vedere poi quanto lo valuta il Chelsea e bisogna vedere poi quant'è la base economica che verrebbe riconosciuta alla Juventus. Ovviamente quando escono queste voci, poi boom, c'è una sorta di tombola. C'è chi dice 30, c'è chi dice 40, c'è chi dice 50. Ecco, io credo che se dovesse andare in porto questa operazione, che trovo folle dal punto di vista della programmazione, ma anche dal punto di vista sportivo, banalmente, si debba iniziare a ragionare dai 50 in su. So anche che questa è una valutazione fin troppo ottimistica, ha maggior ragione se davvero il Chelsea e Vlaovic non è così interessato e quindi accetta di tesserare Dujan Vlaovic soltanto per scaricare, liberarsi di Romelu Lukaku. Banalmente pensano, c'ho un giocatore che è fuori rosa, d'accordo, aggiungo qualche soldino in più, ne prendo uno che magari nei miei piani non è il giocatore che sto cercando, però intanto mi libero di una patata bollente e comunque Vlaovic ha dei margini di crescita. Quindi dal punto di vista del Chelsea questo ragionamento è coerente, lineare, semplice e ovviamente giusto per quello che mi riguarda. Però bisogna anche un po' andare a fondo, a parte che se fossi Vlaovic in questo momento non andrei al Chelsea. Dico proprio sinceramente, il Chelsea è una squadra che in questo momento sta comprando tantissimi giocatori, di tantissimi giovani, tantissimi giocatori di prospettiva e di talento e il rischio è che vengano cannibalizzati un pochettino l'uno dall'altro da questa volontà di questo cambio. Basti vedere come ha concluso il Chelsea quest'annata anche dopo la rivoluzione di gennaio. Quindi il Chelsea secondo me in questo momento è una bomba all'orgeria. Poi ovviamente è la Premier League, è il campionato più bello del mondo. Il Chelsea è una squadra che comunque disponibilità economica ce l'ha, punta a rientrare anche all'interno della Champions League. Ovviamente non stiamo parlando di una squadra di scappati di casa, però bisogna stare molto attenti dal punto di vista sportivo. Un giocatore come Vlaovic in questo momento della carriera, secondo me se fa il passo deve andare in una squadra in cui diventa il centro del progetto. E già il fatto che il Chelsea non sembrava così interessato all'acquisto di Vlaovic se non per liberarsi di Lukaku, ma Dujan dovrebbe un attimino fare i conti con se stesso. Probabilmente dal suo lato converrebbe addirittura a rimanere la Juventus, almeno questo è il mio punto di vista. Dicevamo di Oilund, però l'Atalanta non ha comprato 80 milioni Oilund, quindi la forbice di differenza tra quello che sarà l'output di vendita e quello che è stato l'output di acquisto, l'input di vendita e l'output di acquisto, la forbice è più bassa, quindi si crea una grande plusvalenza, cosa che non potrebbe avvenire alla Juve. Dicevamo prima, bilancio Vlaovic ancora una cinquantina di milioni di euro, la Juve lo valuta 80, vuole cercare di rientrare dell'investimento, però poi bisogna capire, oltre al giocatore, quindi Lukaku, quanto sarà appunto la parte economica. Dicevamo prima, 30, 40, 50, insomma saranno meno di 50. Anche se io inizierei a ragionarci dai 50 in su, perché è un'operazione, secondo me dal punto di vista proprio tecnico, tecnico e di prospettiva folle, quindi dico, va bene, sono 50, sono 60, la fai perché ci sta a farla. Meno di 50, è da babbi. Poi mi direte voi nei commenti se siete d'accordo con questa cosa. Ma la mia più grande paura, come vi dicevo anche un po' sui social in queste ore, è che di quei 30, 40, 50 che arriveranno, poi, che ne so, ne rinvestereai al massimo 20 in un giocatore e il resto invece sarà tenuto in cassa. Giuntoli ci dice la Juve, deve dare un'occhiata ai bilanci, non è un segreto, non è un segreto. E quindi lo ripetiamo a voce alta. Quando si parlava dell'accessione di Vlaovic, si vociferava anche come sostituto il nome di Oilund, no? Ma se dai, poi vai lì, vendi Vlaovic a 80, 90, ti vai a prendere Oilund a 40, 45. Oggi fa abbastanza ridere, no? Sentire questa cosa, e stiamo parlando di un mese, un mese e mezzo fa, di cui si poteva chiacchierare di questa roba qui. Ok, mi sembra abbastanza distante dalla realtà. Vlaovic comunque è stato messo in primo piano da Giuntoli. Giuntoli ha detto chiaro e tondo, è incedibile. Il ragazzo è incedibile, patrimonio della Juventus, è uno degli attaccanti migliori che c'è, lo teniamo lì, giocatore importante. Lukaku è fuori rosa al Chelsea, come dicevamo prima. Cioè, praticamente è la Juve che fa un favore al Chelsea, in questo momento. Perché? Perché vai a togliergli un giocatore fuori rosa e gli vai a dare un tuo giocatore titolare. Ora, diciamo un parallelismo che non può essere vero, però, meno male per darci l'idea, è come se oggi il Chelsea arrivasse a dirci vabbè, ti diamo James, che è titolare da noi, e lo incestriamo in uno scambio con Zaccaria, che da noi è fuori rosa. Avrebbe senso? No, non avrebbe senso. E sarebbe il Chelsea a proporti questo scambio, secondo questa lettura, che mi auguro essere sbagliata, mi auguro essere priva di fondamento, perché se la Juve davvero va a bussare, allora mi viene un'idea. Cioè che la Juve vuole, oppure, ancora peggio, deve cedere un giocatore importante, un giocatore che ha mercato, un giocatore che vale dei soldi, ma queste offerte non sono arrivate. E quindi deve trovare un modo creativo per arrivare a incastrare questa operazione di mercato. Si è parlato di un altro aumento di capitale, altri soldi che verrebbero inseriti nelle casse, della Juventus. Soldi. Soldi, 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 soldi. Non è la prima volta che parliamo di soldi, ne parliamo sempre, ma in questa sessione di mercato non è la prima volta che parliamo di soldi di fronte all'aspetto tecnico. Ve ne parlavo l'altro giorno con Cesni. Sì, dal punto di vista economico, bilancistico, cedere Cesni oggi, che guadagna una barca di soldi, anche solo per 10-15 milioni se arriva al Bayern di turno, e mettere Perin titolare, e mettere un secondo portiere che vada a prendere il posto di Perin perché Perin diventa il titolare, dal punto di vista economico, è un capolavoro. È un capolavoro. Ma dal punto di vista tecnico, se ti presenti con, non lo so, Perin più Audero, più Pinsoglio, piuttosto che Cesni, Perin e Pinsoglio, dal punto di vista tecnico, per quanto mi riguarda, è un downgrade. Dal punto di vista del bilancio, è la salvezza, è l'operazione da fare, facciamola di corsa, per l'amor di Dio, lo paghiamo meno. Sì. Però poi in campo, che cosa ottiene la Juventus? Di più da questa operazione. Di più niente. Di meno? Di meno qualcosina. Ancora una volta. Perché, adesso io, nelle ultime ore ragazzi, sto leggendo che no, però Lukaku, dal punto di vista tecnico, è decisamente migliore di Vlaovic, è assolutamente migliore di Vlaovic. Va fatto proprio perché, dal punto di vista tecnico, Lukaku è meglio di Vlaovic. In queste ultime ore ragazzi, davvero, si sta facendo passare Vlaovic come l'ultimo degli scarponi scarsi, tristi nel mondo. Ma non è questo il punto. Cioè, non è questa la realtà. Così come non è la realtà che Lukaku, in questo momento, sia decisamente meglio di Vlaovic. Banalmente, ultima stagione, Lukaku in Serie A 10 gol, Vlaovic in Serie A 10 gol. Non possiamo non prenderle in considerazione queste cose, anzi, cerchiamo di scavare anche un pochettino più nel profondo, no? Nelle ultime quattro stagioni, di cui tre all'Inter e uno al Chelsea, Lukaku, nelle prime due con Conte, in 51 partite, fa 34 gol. Nella prima stagione. Nella seconda stagione, in 44 partite, fa 30 gol. Quindi 34 più 30, 64 gol in due stagioni, nelle prime due stagioni all'Inter, con Conte. Viene ceduto, va al Chelsea. in 44 partite, segna 15 gol. Al Chelsea fa male, molto male. Tanto che torna all'Inter, in prestito. E all'Inter quest'anno con Inzaghi, in 37 partite, segna 14 gol. Stiamo parlando di numeri decisamente più bassi. Basti pensare che, nelle ultime due stagioni, quella all'Inter con Inzaghi, e quella al Chelsea con Tuchel, e poi tutti gli allenatori che sono subentrati, ha segnato 29 gol, cioè meno di quanto abbia mai fatto in una singola stagione all'Inter con Conte. Quindi Lukaku straripante, forte fisicamente, che fa la differenza in Serie A, che ci ricordiamo, perché comunque un ricordo fresco, stiamo parlando di 3-4 anni fa, bisogna capire se è Lukaku, come giocatore, che dove lo metti lo metti, ti fa la differenza, oppure è Lukaku, messo in un contesto, come quello di Conte, che è riuscito ad esaltarne le caratteristiche. Traduco, non è che se prendi Lukaku lo butti nella Juve di oggi, ti viene fuori Lukaku che spalla la porta, si gira e va a far gol. No, perché probabilmente c'è una preparazione fisica diversa, una preparazione tattica diversa, e si è trovato in difficoltà sia il Chelsea che con Simone Inzaghi. È un parallelismo molto simile allo stesso di Vlaovic, che fino a gennaio aveva fatto 21 gol con la Fiorentina, poi arriva la Juventus e si blocca, e ne fa decisamente di meno. 19 gol, non mi ricordo, 19-21. Però poi il Vlaovic che avevamo visto a Firenze, il contesto nel quale era stato inserito la Juventus, sembrando giocatori diversi, era passato un mese, un mese e mezzo, era cambiato il contesto nel quale era stato messo. Quindi, quindi anche Lukaku, dal mio punto di vista, si troverebbe in difficoltà in questo contesto, perché tanti dicono semplicemente, è grosso, lo metti là, la Juve gioca in contropiede, Lukaku contento. Arriva un gioco in contropiede. Poi, se quello che abbiamo visto col Milan sarà continuità, adesso vedremo anche con Real Madrid nella prossima partita, e quindi palle in profondità, magari arrivare in porta con uno o due passaggi, allora Lukaku si trova assolutamente a suo agio. Però mi viene da dire, forse anche Vlaovic allora. Ripeto, io a questo punto non credo che sia una ragione tecnica. tante volte abbiamo sentito in queste settimane, sì, ma perché Allegri vuole Lukaku. Anch'io, lo ammetto, ci ho pensato a un certo punto, la versione più verosimile mi sembrava quella di Davom, cioè Allegri ha paura che succeda ancora una volta come con Ronaldo, esce Ronaldo all'ultimo, ti becchi Ken, all'ora delle due, chiede Lukaku da subito, ed è disposto a cedere Vlaovic per Lukaku. Sembrava una versione verosimile. In realtà oggi mi viene da pensare che sia la Juventus intesa come società che vuole fare un'operazione in cui viene ceduto un pezzo grosso e quel pezzo grosso è stato individuato in Dujan Vlaovic, perché ha bisogno di quei soldi, di mettere quei soldi a bilancio, poi l'aspetto tecnico, quello sportivo, passa in secondo piano. E quindi c'è questa situazione Lukaku, è un giocatore che comunque in Italia ha fatto la differenza, è un giocatore che in Italia ha avuto un nome, ha vinto in Italia uno scudetto, ha dimostrato di poterlo fare, è fuori rosa, lo togli anche all'Inter, proviamoci, è un'occasione. Sì, ho capito che è un'occasione, però poi bisogna anche cercare di capire se quell'occasione ti fa bene o male, perché Giuntoli stesso diceva poi determinate operazioni ti bloccano sul futuro. Ecco, Lukaku mi sembra una classica operazione di quelle che poi sul futuro ti bloccano il mercato, perché stiamo parlando di un giocatore con 30 anni di età, con un angaggio importante, con anche dei limiti fisici e dei problemi fisici che l'hanno limitato appunto durante questa stagione, l'abbiamo visto, e noi non siamo assolutamente la squadra giusta per dei giocatori che hanno dei problemi fisici e lo sappiamo benissimo, quindi non vorrei che l'occasione economica potesse fare talmente gola per sistemare in questo momento specifico i bilanci per poi ritrovarci in una situazione più complicata al punto di vista sempre economico tra qualche anno per esempio lo scambio tra Pianici e Arthur che lì per letto ha dato un'iniezione di oh wow benissimo soldi freschi bilancio posso tirare e adesso è un problema si è qua a dire costa troppo bilancio non lo posso cedere ha un ingaggio importante chi lo vuole devo rinnovarlo spalmarlo pagare la mità quindi sull'immediato certo un beneficio sul lungo non tanto e abbiamo passato da poco un momento in cui questi concetti venivano evidenziati ripetuti ribaditi anche dai dirigenti dell'evento stessa l'abbiamo sentito nelle intercettazioni dirigenti che erano preoccupati perché le plusvalenze si hanno fatto bene subito ma poi diventavano una gatta da appelare e questo è soltanto l'aspetto economico per cui la falsariga dell'operazione Scesni si andrebbe fatta perché dal punto di vista economico migliore bla 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 ma dal punto di vista tecnico dal punto di vista sportivo questo mi preoccupa questo mi preoccupa e non poco proprio perché come vi dicevo vedere Lukaku come il salvatore della patria che arriva e cambia la Juventus mi sembra un discorso davvero distante dalla realtà ma voglio sapere la vostra opinione questo sotto nei commenti